L'ha ammesso, cioè ragazzi ha ammesso praticamente senza troppi giri di parole che si sono messi le mani addosso, che non solo sono volate parole pesanti ma ha lasciato intendere, secondo me, adesso rileggiamo insieme la trascrizione della conferenza, che praticamente sono arrivati alle mani e che questo deve essere preso come un segnale positivo. Ha detto meglio prende ste imbarcate, prende così tanti gol perché almeno capiamo qual è il problema. Tu, che fino all'altro giorno continuavi ad esaltare una squadra dei scappati di casa, una squadra che non si regge in piedi, una squadra che non si fa due passaggi uno in fila all'altro, me vieni a dire che serviva una sconfitta del genere, peccavi che c'è stato un problema. Ma veramente famo? Ecco, questo è l'incipit della mia reazione a questa ennesima conferenza stampa di Ivan Juric, che non avrebbe dovuto esserci, ribadisco il concetto per quanto mi riguarda, non ci doveva arrivare ad oggi, a sto punto. Doveva essere esonerato, ragazzi, stile dell'Aurentis a partita appena terminata tramite un tweet, su Twitter, su X come cazzo si chiama, no? Invece noi andiamo avanti. Poi escono fuori anche altri, retroscena, che te fanno ancora più bestemmia, come sempre qualora fossero confermati, ma io ormai credo a tutto quello che leggo. Addirittura si dice che i Fritkin abbiano rifiutato, rifiutato Tersic, ragazzi, come Tersic era, o Tuchel addirittura. Ora mi sfugge, pensate come sto ridotto. Talmente è tanta la frustrazione, talmente è tanta l'incazzatura, ragazzi. Leggo le notizie e non leggo neanche chi è il diretto interessato. Ho letto Juric, hanno preferito Juric e mi si è attappata la vena. Ecco, bentornati e ben ritrovati. Il motivo per cui vi chiedo di seguirmi anche su questo canale YouTube è proprio questo. Quando pubblico questi contenuti, calcistici in generale, che parlano di Roma ma non solo, se non siete iscritti, non venite a conoscenza di questi video, ve li perdete. Quindi, iscrivetevi, attivate la campanella, così anche su questo canale YouTube resterete sempre aggiornati e non vi perderete nulla. C'è un altro canale di calcio, ovviamente, credo lo conosciate, e un canale extra calcio. Li lascio tutti in descrizione, come sempre compariranno qui durante il video. Questo bambolotto qua dei miei fianchi si può vedere. Cioè, è un qualcosa... Aumenta veramente l'ambiente macabro che aleggia all'interno di casa mia, ma in generale dell'ambiente Roma. Allora, Roma fiducia a tempo per... So sulla trascrizione di Sky Sport, perché quella sul sito ufficiale dell'Est Roma non è ancora uscita, ma tanto le parole so quelle. 30 minuti fa, Roma fiducia a tempo per Juric, ci sarà col Torino. Paolo Assogna spiega, al momento dei giallorossi è la conferma dell'allenatore, almeno fino al match contro il Torino. Il suo destino è legato ai prossimi risultati. Vabbè, su questo non c'avamo dubbi. A me fa male il fatto che sia stato confermato e che, ragazzi, continuiamo a barcamenarci in una situazione da cui non ne usciremo mai. Perché io ribadisco ulteriormente il concetto, prima di reagire alle sue parole, siamo una squadra dei salami, siamo una squadra dei polli e serve sempre che si ripulisca tutto il precedente per poi avere un momento in cui tiri fuori un minimo di dignità, un minimo di decenza, un minimo di onorabilità, per poi, ragazzi, ritornare sempre sulle stesse magagne. E sapete per quale motivo? Perché vengono fatte le scelte sbagliate sulla panchina della Roma. Perché non vengono presi allenatori con le palle che effettivamente sanno come gestire una situazione, ribadisco il concetto, di anarchia totale. Una cosa che ha detto Juric mi è piaciuta tantissimo. C'è una frase che ha detto che adesso andrò a recuperare, che voglio commentare, e voglio spezzare una lancia in suo favore, ma che fa capire effettivamente che dentro sta società de' merda, ragazzi, vogliono avere voce, in capitolo tutti, tutti vogliono comandare. La suddivisione dei ruoli è quello che manca. Allora, comincia la conferenza stampa. Come sta la squadra in vista? Come cazzo può sta la squadra in vista di domani, secondo te? Come può sta? Come può... Stavo per utilizzare un termine che neanche posso usare su YouTube. Lui ha detto c'è stato un crollo emotivo, una crisi, una crisi di identità. Dopo 40 giorni di buon lavoro, ha detto. Strano ha detto ottimo, ineccepibile, clamoroso. Invece ha detto non eccellente ma buono. Mo ha ritrattato. Cristante ha i superpoteri e indica può essere un top di quelli clamorosi. E l'ambiente perfetto. Mo ha... Dopo sta figura de' merda, giustamente, capito? Devi sempre tirare i tuoi remi in barca, però addrizzando il tiro, perché se no risulti veramente ridicolo. Benissimo. Non eccellente ma buono. Mi aspettavo un grande passo in avanti. Invece c'è stato un crollo totale. Può essere una svolta... Può essere una svolta in positivo anche per... Cioè ma davvero l'ha detto. Anche per il Milan è stato così. Cioè dopo che ieri sera il Milan piglia due fischioni a San Siro dal Napoli sprecando l'impossibile perché è quello il suo modo di pensare. Lui non guarda il risultato. Anche se perdi sul 5-1 un po' di incazzo perché ha fatto ride. Anche se perdi 1-0 con l'Elfsburg lui ti dice che ha visto il gioco che ha visto una squadra che ha visto un'identità che ha visto le occasioni. Lui quello guarda. E questa è la mentalità provinciale ragazzi che ve fa, capi? Come ve dissi io all'inizio appena è stato preso. Che non è adatto a sta piazza. Ma tu veramente mi vieni a fare l'esempio del Milan dopo che ieri ha preso due scopole in casa a San Siro e se ne è ritornato a casa con la coda tra le gambe. Esempio peggiore non me lo potevi prendere. Io veramente sto a rimpiange Fonseca che avrebbe fatto schifo uguale ma non avrebbe fatto schifo a sto modo. Ve lo posso assicurare ve lo posso garantire. Schifo per schifo scelgo quello che è schifo. Si farà più attenzione alla parte tattica o alla testa dei giocatori? Io comunque ragazzi non voglio essere stronzo nei confronti dei giornalisti. Ma che cazzo le domande fate? Cioè ma che cazzo qua veramente io che non apprezzo uno come Juric che in altre situazioni a Torino gli avessero fatto una domanda del genere se sarebbe arzato e sarebbe partito in faccia al giornalista. Ma che cazzo le domande gli fate? Ma che vuol dire? si farà più attenzione alla parte tattica o alla testa dei giocatori? Ma secondo voi no? Nell'esatto momento in cui scende in campo sta squadra a che cosa può fare attenzione? Deve fare attenzione a tutto a qualsiasi particolare il problema è che non faranno attenzione a un cazzo il Torino fa parte del passato forse perché qua manca lui ha risposto il Torino ci sarà stata un'altra domanda che non hanno trascritto ovviamente il Torino fa parte del passato e Vanoli non me la ricordo il Torino fa parte del passato e Vanoli sta facendo bene come i loro acquisti sono una squadra di valore dovremmo stare attenti su tutti i particolari a livello emotivo dovremmo essere preparati ma a livello emotivo tu non sei preparato perché tu al primo scricchiolio alla prima incertezza alla prima mezza occasione che creano tu gatti nel barato e fai una brutta fine sportivamente parlando questo è il discorso e io sono convinto che stiamo rimandando un problema che andava ragazzi risolto alla radice drasticamente e immediatamente a prescindere del turno infrasettimanale bisognava dare una svolta bisognava lanciare un segnale che non è stato lanciato che aumenta il malcontento all'interno dell'ambiente e soprattutto all'esterno in attesa di un'altra figura di merda storino ce rompe il culo probabile poi è capace pure che io arrivo a sperare spero vivamente de perde e anche male la prossima partita pensate come cazzo sto ridotto così finalmente lo mandano a fare in culo e magari si può ripartire nuovamente invece lo sapete che succede che giocherà in ammerda o è capace pure che la vinci 3 a 0 sta partita se salva il culo rimandiamo ulteriormente il problema e ci barcameniamo ragazzi in una situazione da cui non ne usciremo più e cadremo nell'anonimato e nella crisi più totale in questa stagione come ha detto Trevisani quest'anno a Roma è morta gli hanno già fatto il funerale e io sono d'accordo con quello che ha detto ma l'hanno ammazzata i dirigenti e la società con le scelte che stanno a fare già da quando hanno deciso di metterci Iuric sulla panchina avverte l'atmosfera dell'ultima spiaggia e che stile adotterà coi cambi sempre domande intelligenti comunque c'è Einstein sposta di proprio non ci penso proprio che cazzo te può dire si ci sto a pensare sto a cacare sotto se me cacciano oddio come faccio che cazzo te può dire non mi preoccupa minimamente faccio il mio lavoro la Roma non può permettersi esclusioni anzi bisogna portare tutti dentro uno più scherzo dell'altro capito non ne possiamo fare a meno di queste pippe non bisogna escludere ma far presente ciò che bisogna fare in questo momento e credo che sia stato fatto presente ma ribadisco il concetto credo non servirà assolutamente a niente preparatevi perché questa è l'affermazione clou l'affermazione clou che dà vita soprattutto a questo contenuto è questo quello che voglio commentare questo gruppo lo sente ancora convinto del progetto tecnico sono stati giorni di litigi cioè quando Mancini davanti alle telecamere dei tifosi dice no no io vi garantisco siamo un tutt'uno con l'allenatore cioè te piano proprio per il culo allora perché l'allenatore e credo che abbia fatto bene a far uscire le magagne ma mantenendosi entro un certo limite ragazzi forse l'ha fatto un po' per parasser culo perché ce vedo un po' de malizia anche in questo perché i giocatori si stanno a a difende e stanno a diccazzate perché Mancini dice che sta tutto a posto che sta tutto ok state tranquilli le mammo tutti alla stessa parte e poi lui dice una cosa del genere con tutto che me sta sul cazzo Juric sportivamente parlando ma io credo a quello che dice l'allenatore non credo a quello che dicono i calciatori e ribadisco il concetto andatevi a vedere il mio ultimo video sfoco su Gabbo man dove ho parlato ho commentato proprio il presunto litigio le bottigliette che so volate negli spogliatoi tra Juric e Mancini Mancini che gli vuole partì Ghisolfi che litiga tramite interprete con i calciatori che Pellegrini che si incazza con Ghisolfi e che fa parla col tramite e mena tramite invece che mena direttamente a Ghisolfi cioè una scena da comiche proprio traggi comiche e questo è l'ambiente dove cazzo dove cazzo io mi sono andato ad impelagare che cazzo ne squadra che tifo sono stati giorni di litigi anche pesanti anche pesanti ma meglio che siano successi ha detto in questi due giorni tra liti e discussioni abbiamo indirizzato la barca a livello di pensiero ci credete voi ci credete voi che veramente rimano tutti dalla stessa parte da questo momento in poi io non ci credo manco se lo vedo non c'è unità dei intenti ribadisco il concetto ognuno ogni calciatore l'allenatore la dirigenza la proprietà ognuno va in una direzione ci credo che non arrivi che non arrivi a dama ci credo che non riesci a fa a fa un punto manco per sbaglio ci credo che pigli le imbarcate contro la Fiorentina è una polveriera mi riferisco a ciò che deve fare la squadra caratterialmente preferisco lo scontro per andare avanti a testa alta piuttosto che le chiacchiere alle spalle e questo lo preferisco anche io onestamente mi trovo assolutamente d'accordo con Iuric perlomeno hanno parlato ma le magagne sono uscite in una situazione di nervosismo perché altrimenti non sarebbero mai uscite perché quello che io continuo a dire da anni a questa parte è che all'interno di Roma all'interno della Roma manca la comunicazione lato proprietà dirigenza verso i calciatori ma anche viceversa io sono convinto di quello che vi dico sono convinto la comunicazione è la cosa più importante all'interno di una famiglia all'interno di una squadra all'interno di qualsiasi contesto lavorativo familiare quello che cazzo mi pare se manca quello non vai da nessuna parte cercherò di mettere la migliore squadra possibile per vincere cercherò ma come sei un fenomeno hai un ambiente perfetto giocatori perfetti quello è top così quello è top eccola per me è tutto chiuso sì sì pure per noi aspetta che arriva la prossima partita vuoi di che fine che fai si riparte alla grand si riparte alla grand alla grandissima si riparte guarda siamo proprio contenti guarda io non vedo l'ora di vedere la figura del merda che facciamo domani io sto spera veramente che domani rimandano per un bifraggio perché non me voglio più un cazzà non me voglio più un cazzà io sto odiando la mia squadra del cuore dove cazzo sono arrivato per colpa di queste teste di cazzo ho visto i ragazzi convinti ma voglio proprio vedere la convinzione in campo voglio proprio vedere meglio così che perdere 1 a 0 e continuare come stavamo facendo ma come continuare come stavamo facendo sei un fenomeno stavi a fa genio incompreso stavi a fa un bordello stavi a fa stavamo a retrocede ma per te siamo primi siamo giustamente poi uno gli ha detto scusa ma che cazzo stai a dire quali sono i rancori della squadra che succede i litigi e cose questo deve rimanere tra di noi ho parlato di litigi e scontri scontri ragazzi la parola scontro litigio è uno scontro verbale se tu me poi mi ci metti pure per quanto sia croato e a livello comunicativo ogni tanto ancora non è che sa parlare perfettamente italiano ma litigio è una cosa verbale lo scontro ragazzi si è arrivato alle mani cioè questo ha confermato che si sono messi le mani addosso ma voi vi rendete conto voi vi rendete conto ma io sono contento perché l'ho chiesto io ieri eh l'ho chiesto io ieri nel nel mio sfogo proprio no dove commentavo lo scontro ho detto voglio sapere che cazzo voglio sapere se effettivamente quello che cazzo è successo in realtà ho detto non mi interessa se sono messi le mani addosso o meno ma adesso che me l'ha detto sono contento che l'ha detto volevo sapere pure questo volevo capire effettivamente fino a che punto sono arrivati ma questo resta tra noi vabbè vi sarete messi le mani addosso ok perfetto invece arrivati a sto punto per quanto forse è meglio che non escano determinate cose perché veramente uno rischia di incazzarsi ancora di più arrivati a sto punto vorrei anche sapere effettivamente quello che si sono detti e quali sono stati i motivi che hanno portato a sto scontro quali sono effettivamente queste divergenze che cazzo sta succedendo all'interno del sto spogliatoio io vorrei veramente vedere all or nothing come si chiama ma perché li fanno solo per le altre squadre che alla fine di quelli che vincono scudè tutte cose fate non all or nothing del genere mettetevi le mani addosso davanti alle telecamere e mannatelo a un mondo visione fate il botto fate fate il botto dal punto di vista della visibilità fate vedere lo schifo che c'è sta dentro voglio sarei stato curioso di vedere se ci avrebbero avuto il coraggio di comportarsi in quel modo davanti alle telecamere secondo me ci avrebbero avuto il coraggio che verità devono dirsi i giocatori ce la siamo detta magari inizialmente in modo violento ah raga ma è grave questa cosa ma questi veramente si sono messi in modo violento questi hanno utilizzato violenza fisica all'interno lo spogliato voi si sono messi ai mani addosso del brutto poi ragionevole dopo il modo violento il mio punto di vista e qua c'ha ragione ragazzi però onestamente è che io sono l'allenatore devo preparare la squadra e i giocatori devono giocare la definizione dei ruoli è importantissima su questo c'ha ragione perché se un calciatore si permette di provare a sovrastare l'allenatore per quanto sia un senatore per quanto ovviamente tutti vogliono il bene della squadra ma se viene a mancare la definizione dei ruoli questa è una cosa grave e so anche i calciatori secondo me che devono pagare per queste cazzate per questi errori se a Roma le cose non vanno è anche per certi atteggiamenti perché se si arriva alla violenza all'interno dello spogliatoio a prescindere da chi ha acceso la miccia è grave è gravissimo e se poi i risultati sul campo non arrivano ribadisco il concetto e ve lo sottolineo con l'evidenziatore quello più colorato che c'ho è per questo motivo non vai da nessuna parte perché questa non è una squadra questo è un ammasso di opportunisti di egoisti che vogliono comandare sugli altri poi ci sarà il gruppetto ci sarà l'altro gruppetto ci sarà l'altro sottogruppetto c'è chi fa gruppo dove cazzo vai è per qua allora quando io dico che questa è una squadra da buttare completamente un edificio butti tutto giù e devi ricostruire da zero e devi cacciare tutti allora allora c'ho ragione allora bisogna veramente togliere tutte le mele ma quali sono le mele ma quante sono le mele marce all'interno perché se lo fanno con Juric lo hanno fatto con tutti gli allenatori mi viene da pensare che sia stato fatto pure con Mourinho quando le cose hanno cominciato a scricchiola allora è vero che l'hanno fatto pure con De Rossi allora comincio veramente a pensare che si sono messi le mani addosso pure con De Rossi lo comincio a pensare seriamente quando fino a ieri fino a che Juric non confermasse sta cosa ragazzi non credevo minimamente a sta versione ma se è una cosa del genere e se la proprietà sa tutto quello che succede perché gli è verrà riferito e non fanno un cazzo e non danno multe pesanti ai calciatori e non ridefiniscono loro i ruoli dei calciatori dei dirigenti della proprietà e via dicendo la situazione io la ribadisco ancora una volta è gravissima e come mi ha scritto uno sotto nei commenti proprio ieri ma questi sono americani ma possibile che se fanno via per culo così secondo me si ragazzi non riescono a gestirla sta situazione e non spogliato io ingestibile per quanto poi Juric è anche uno che ho detto io appena arrivato si alleneranno tutte le settimane e scenderanno un campo con l'occhio a panda i giocatori perché Juric via a cazzotti ed effettivamente è successo ma mi sa che non riesce a gestirli manco lui perché non è uno che buona allo scontro qua mi sa che sono 4-5-6-7 è grave sta cosa ragazzi io sono preoccupato per il futuro della Roma sono preoccupato in questi confronti sono emerse divergenze tattiche penso che la squadra in 7 partite ha subito 5 gol se i giocatori non sono convinti me lo possono dire e io me ne vado non l'ho sentito che lo diceva in diretta me lo sono perso probabilmente perché mi figlia in quel momento avrà urlato avrà attirato la mia attenzione stavo seguendo la conferenza col telefono e nel frattempo tenevo mia figlia ma non è così loro vogliono migliorare hanno le qualità per fare bene quindi noi hanno detto vattene allora perché si sono messi le mani addosso ne qualcosa non mi tolta ha sentito la proprietà ha percepito una squadra abbandonata dalla società che te dice si che te dice è stipendiato dalla società che te può dire si è abbandonata questi non ce stanno mai stanno a giocare golf in America se stanno a fai i cazzi loro che te può dire questo si sta a tenere a posto con le unghie e con i denti spera che non lo mandino via tanto lo stipendio fino a giugno se l'ha assicurato se lo esone l'hanno sua via comunque ma questo ce vuoi continuare basta sia per i sordi sia perché sta allenando una squadra che non ha mai allenato in vita sua abbiamo parlato col presidente ci sono stati contatti queste cose distraggono dal campo io resto della mia idea guardandomi intorno non vedo mancanze e preferisco che la proprietà responsabilizzi me i solfi e i giocatori tutto il resto sono distrazioni ognuno deve fare il suo e bisogna lavorare forte questa è la cura giusta per riprendere in mano la situazione e qui termina la conferenza stampativa di Yuric sono anche parole giuste non lo metto in dubbio perché ribadisco il concetto mi trovo completamente d'accordo su alcune cose che ha detto Yuric ma il problema è che ad oggi le parole e i fatti in 40-50 giorni di Yuric ragazzi sono stati completamente diversi questo è quello che io vedo e non lo vedo perché me lo sogno la notte ma perché è la classifica che parla sono le prestazioni che sono state fatte finora e in campionato e in Europa League quindi che vogliamo fare? non aggiungo altro